Nelle ultime settimane ci sono state un po' di fibrillazioni qua in Regione. A che punto siamo? Ci sarà il rimpasto? Non ci sarà la squadra regge? Guardi, io sono convinto che tutti abbiamo lavorato sempre per cercare di dare le risposte necessarie alla nostra comunità. E sono convinto che intorno a questo principio, come è avvenuto prima, nelle settimane che lei ha citato, e anche dopo e anche durante la fase, continueremo su questa falsa lega. Non vedo problemi di nessuna tontura, vedo veramente una squadra che vuole impegnarsi nel pratico per dare le risposte. In un momento dove ci sono in atto due guerre e delle crisi internazionali geopolitiche molto forti, c'è un'inflazione, c'è il costo dell'energia, il costo delle materie prime, il costo del gasolio, della benzina, che tocca in tante regioni, per fortuna nella nostra regione siamo sotto i 2 euro, ma in tante regioni ha superato addirittura i 2 euro. Credo che tutti noi dobbiamo animare e concentrati su quelle che sono le priorità. E al di là di quelle che possono essere state le battute e delle situazioni, tutti abbiamo continuato sempre a lavorare per la nostra regione. La squadra quindi è totalmente confermata a tutti gli assessori? Io credo che la squadra non sia mai stata messa in dubbio da nessuno.